È stata inaugurata ieri al Forte Superiore di Nago la mostra La cultura della cultura, curata dall'architetto Donatella De Bonetti. La mostra è dedicata alle opere dell'architetto Gino De Bonetti, un richiamo alla progettazione disegnata attraverso schizzi, disegni e progetti. Un percorso tra l'antico e il presente, rivisitato da un artista attento a descrivere con nuovi elementi il suo vissuto di memoria e di vita. La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche fino al 22 novembre, dalle ore 18 alle ore 21. Sentiamo le interviste raccolte. La cultura della cultura è la mostra che rimarrà aperta a Nago fino al 22 novembre. Di cosa si tratta? Allora, si tratta sostanzialmente della quinta mostra dell'architetto Gino De Bonetti, nella fattispecie È mio papà, il quale ha lavorato tutta la sua vita come architetto rispettando il territorio con le sue progettazioni e da piccolo ha sempre osservato tantissimo la natura perché si è preoccupato di dipingere con la mia zia, prozia, sua zia, che era una pitrice e quindi lui per tutta la sua infanzia ha sempre guardato e osservato la natura, tanto che nella sua attività di architetto ha messo sempre al primo posto l'inserimento dell'edificio che progettava nel paesaggio circostante. Ecco, l'utilità di queste riprese che dovrebbero essere fatte con proprietà in modo che le documenti esattamente tutto il territorio, le serve per dare una base a tutte le scelte che dopo venneranno fatte nel corso della costruzione del piano urbanistico. Quindi avergli a casa la documentazione totale del territorio che è da trattare dal punto di vista urbanistico è molto utile far risparmiare un sacco di tempo. Invece di fare 200 sopralluoghi, con il materiale che ho davanti posso lavorare per diversi mesi. Se dopo è richiesto un aggiornamento, farò l'aggiornamento. Ma è da un punto di vista pratico, ho scelto questa strada e difatti è risultato utile anche perché dopo è una documentazione che resta anche per il futuro, per i comuni. Per il piano comprensoriale ho ampliato un po' le capacità di questa scelta, nel senso che mi sono fatto un ufficio mobile nel furgone Fiat e ho messo tavoli da disegno, la macchina fotografica, tutto quel che serviva. Quindi arrivavo sul luogo della ricerca e stavo là tutta la giornata. Quindi facilitavo, era più razionale il lavoro. Si troveranno qua esposte fotografie, ma anche disegni, sempre opera dell'architetto De Bonetti. Certamente, lui ha mantenuto, nonostante sia un giovane novantenne, ha mantenuto una buona manualità che aveva già di suo quando era piccolo e che quindi ha comunque ottimizzato nel tempo. Ci sono fotografie dovute agli anni 70-75, quando lui fece il piano di fabbrica di Nago, che era proprio una ricerca del paesaggio e della fotografia vera e propria dello stato di fatto dei luoghi. Quindi c'erano tutta la parte agricola che serviva per poter decidere dove eventualmente nel piano mettere differenti aree omogenee e quindi c'è sostanzialmente anche la manualità dove lui ha recuperato graficamente la natura attraverso campi solcati, attraverso la rappresentazione delle nostre agricolture specifiche, che sono l'olivaia per esempio o i vignetti. Il piano di fabbrica di Arco, quello di Nago Torbole e il piano comprensoriale. E quindi troverete, sì, immagini degli anni 70, grafici fatti da papà adesso, perché è mio papà l'architetto, fatto adesso negli ultimi due anni, perché scherzando, ma io dico sempre che questa è la biennale di Nago, perché noi abbiamo fatto cinque mostre con una scadenza biennale partendo dal 2007. E quindi troverete la possibilità di verificare se il territorio si è modificato o non modificato dal punto di vista agricolo dal 75 ad oggi. Però il territorio è cambiato tanto in questi anni? Il territorio è cambiato, sì. Era logico che il cambiasse, perché l'era sta fermo fino alla fine della guerra. I problemi diventai tanti, poiché era anche una possibilità che una volta era molto più remota, quella di fare dei guadagni costruendo. questo tipo di lavoro, prima della guerra, non lo fea nessuno, non rendeva. Invece con il dopoguerra veniva fuori questa possibilità e non a caso tanti paesi erano raddoppiati di dimensione, ma anche, no? La mostra viene realizzata in collaborazione con? Allora, beh, sicuramente col circolo culturale. Poi io sono la curatrice, mio fratello Luca De Bonetti, architetto dei beni culturali, ha dato un'impronta a questo tipo di lavoro e giustamente papà. Poi il comune di Nago ci ha dato l'occasione di essere in questa sala bellissima che ci permette di fare la quinta mostra. In merito alla presentazione del piano di fabbrica De Arco, come dicevo prima, mi ero fatto un furgone ufficio nel quale tenevo il materiale fotografico, le macchine fotografiche, però anche un tavolo da disegno in modo da poter fare degli schizzi. Naturalmente col furgone giravo dappertutto dove mi interessava per fare questo lavoro e qualche volta mi sono fermato in luoghi dove era di vieto e di sosta, no? Cos'è non c'è una valanga di multe? Allora ne ho da sindaco e che dicevo queste le mette via perché mi non le pago. E questo era buffo perché i vigili urbani non venivano a domandarmelo perché potevano domandarmelo, no? Perché uno che ha un furgone con due porte spalancate con un tavolo da disegno dentro, una macchina fotografica che gira di qua e di là, poteva aspettarsela che non era una roba normale, no?